bella rega oggi sono qui con gabriele 070904 ma il fraccio non è saluta fraccio saluta bello bello abbandonato abbandonato si ma non dei nostri l'altro si ma io devo andare di la nella squadra blu no devo andare di la in mansart no no non devi si devo andare a cercare una cosa no si mi fa giocare meglio no contro se non li vai a prendere ma non devo andare a prendere il control freak il control freak non devo andare a prendere niente no si invece no si e cosa sentiamo il cappellino ah mamma mia è figa i cappellini su quelli la che ci sono i programmer cazzo che li usano non perché non li posso usare io adesso ho capito va bene che tu sei scarso però senti eiger senti il rapid fire la finisci è che non ha cosa illegale la finisci basta però va bene che rapido fai ta hai rotto unикoglio male per bene in america dobbiamo assicurare alla presa perché americano vai kiri e una de una bill Onesto, mi fa piacere capire se il Dio... No, 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 zio! Onesta sta cosa che stai facendo? Vai, vieni con me nel CCTV No, ma lì ci moriamo, te lo giuro Vieni nel CCTV Ci moriamo Vabbè, comunque sono venuto lo stesso E quello è il fatto Guarda, vedi che sono fuori da me Aspetta di andare nel CCTV Qualcuno fuori da te Non so chi è Anche lì fuori da te Allalalalai fish run Sì Se pinghiamo tanto è perchè siamo in server americani, giusto? Sì Occhio Ti apri qua Dove? Eh, dove andano... Mi è andato un'altra foto Mi ha spottato di nuovo Mi ha spottato di nuovo Ma non ci credo Ma dai! Anche ieri! Bang! Vai! Non pusharlo Ma che con la pistolina? Ma sei stupido OOOOOO Grande, bella Guarda quel moto L'hai vista? Eh, l'hai vista? È stata appesa friga friga Guarda come si è appesa Oh, ma comunque A me l'avevano chiuso Qua Gabriele è 001, eh Comunque ha visto che l'avevano chiuso, cioè Eh, poi avevi te e avevi però li killi, no? Ovviamente Cosa vuol dire? Dai, ci siamo auto-uccisi, cavolo Auto-uccisi Auto-uccisi Ci ha ucciso un auto Capito? Sì, sì Guarda che mi metti carosso il cecchino di Bacol tra la sole nero Ci sta Questa qua è leggendaria Ma pure l'altra era leggendaria Ma poi l'hanno fatta epica, giusto? Quale? Quella che hai tipo su... Sugli Eganer, mi sembra No, no Chi è che è quello? Non mi ricordo chi è Termite Ecco, bravo, Termite No, no Quella lì è sempre stata epica, ho visto Hai visto? Sì, ho visto i video tipo dei TTS Quando sbloccavano le cose Sempre epica Quelle legendaria erano quelle... Erano quelle... Erano quelle... Di lion filter Che sono quelle proprio infezioni No dai perché c'è... Carb smoke, mira me la spotta Ma... Cioè mi metto il puntino rosso e non me la spotta, guarda Eh, l'ultimo è il vigil Si ma non mi spotta quello No No L'ultimo è rimasto Vai a fare good, vai a fare... Io me ne vado, io me ne vado Io me ne vado No, no Io me ne vado, io me ne vado DAI Mi vado a prendere il cappellino, basta Per quello che sto prendendo No 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 Grazie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vabbè in effetti è un po' giochi meglio col cappello Eh si poi è se delle carte cazzo In che senso il cappello ha delle carte? Il cappello ha delle carte Il cappello ha delle carte Il cappello ha sopra le carte Che carte? Eh da poker Ah carte Carte Io direi carte subito scusa Vabbè Oh questo qua ha idan lestat È livello 197 con 1.6 due decisioni morti Ok abbiamo vinto È arrivato Operational Platino 3 Blood Orchid Platino 3 White Noise Oro 2 Timera Platino 3 Parabello Platino 3 Blue Sky Oro 3 Wind Bastion Oro 2 Quanto ha vittorio sconfitto? Fai 807 diviso 591 Dopo lo faccio Sto facendo una cosa Adesso sto giocando Sai com'è? Ah 1.4 1.6 due decisioni morti Ok ho fatto un buchino sopra Vieni su con me Per favore Importantissimo Se mi killano però Mi incazzo con te Guida me Eh sono lontano da lì Dove sono adesso? Ok ok vieni su dal buchino che ho fatto io Dove? Dove ti avevo indicato prima Eh non ho visto Da qui Dov'è lì? Da dove è? Da la terra secondaria Sì 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 Ho sentito qualcuno Ibana Sì Ma era distesa nel bagno Non l'ho vista Lion disteso nel bagno Guarda come fa fintere È disteso ad essere nel bagno Guarda quel lion là Vai dentro l'obiettivo È uscito Vai da destra No Il cappellino Full team Ah no no Stavo scherzando Due kill hai fatto Il cappellino No mi fa schifo Con il mio amico Scuola No mi piace Dai muori No 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 Dopo Il cappellino non serve a niente Ma a che cappellino c'è, cos'è che c'è su? Le carte Che carte? Le carte Quali carte? Poker Poker mon go No, po Vado a fare cura Quanto inutile che io ti provo Non posso aspettarli Tanto Il 18 gennaio è già passato Sì Sì Io lo sapevo che c'era qualcuno lì Cosa intendi Cosa intendi Quanto inutile Quanto inutile Da dov'è che hai fatto la kill salvatore? Qui Mamma mia Le tue call out sono una cosa fantastica Qui Eh lo so Ah ok Ho sparato a casa quindi Ma perché mi flasha? Perché è stupido Ma chi è prima flashato oggi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Tony F sta giocando fortuna Basta Basta Adesso andiamo in certi parti Questo video è finito qui Saluta Gabri È andato in certi parti Bella raga Ciao Ciao Ciao